Siamo con Andrea Montavani e ha fatto un primo settore nel settore del Prado B e particolarmente lo ha fatto la inglese e vamos a preguntarle come ha trascorrido la magnana e che punto esclavo ha tenuto per llevarlo all'esito. Io ho visto le prove di ieri, ho puntato a pescare lungo con l'inglese a 40 metri con vigatti incollati e pastura appoggiato bene sul fondo con i verni come innesco. Ho visto la gara che era molto difficile, ho cercato di pescare dove gli altri non arrivavano. Quella è l'unica cosa che ho visto di differenza nelle prove della gara. Pues, molta suerte per la mattina, già ti sei un punto e speriamo che mattina ti abbia più forti ancora. Speriamo. Grazie mille.